In vista delle imminenti festività, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, sta studiando un'intensificazione dei controlli, da coordinare con i prefetti, ma anche un blocco di qualsiasi attività, comprese le consegne a domicilio di cibi per la giornata di Pasquetta. E ieri anche i panifici hanno annunciato che resteranno chiusi sia domenica che lunedì per scoraggiare le scampagnate. Una stretta nel momento più cruciale, con i dati sul contagio e i ricoveri che iniziano a confortare. Pasquetta sarà d'un contesto fondamentale per la tenuta della Sicilia nella guerra al coronavirus, Intanto, il presidente dell'Ars Gianfranco Miciche invita tutte le forze politiche a rassenerare i toni. Mi preme sottolineare, ha dichiarato Miciche, che l'intervento del governo regionale alla stretta imposta con le varie ordinanze, fin dal primo momento dell'emergenza dal presidente della regione Nello Musumeci, sono stati immediati e notevoli.